guardate che cosa è arrivato questo è per te e questo è per te apritelo pure ti piace amore bellissimo dai apri anche il tuo lo proviamo pupe volevo farvi vedere nel dettaglio questi vestiti meravigliosi guardate i dettagli sono stati applicati i petali stupendo stupendo poi qui c'è il primo velo dove sono stati applicati appunto tutti i petali ma c'è sotto il sottogonna bellissimo e questo è per asietta lo adoro